Anche se non si registra un grosso picco dei contagi, la curva resta stabile, sono 993 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in tutta la provincia, invece c'è un aumento notevole dei ricoveri, infatti sono 51 i ricoverati al momento in totale in malattie effettive, nessun ricoverato in terapia intensiva. Nel dettaglio, 127 sono i pazienti riscontrati positivi a Gela, 87 a Caltanissetta, 60 a San Cataldo, la soglia non scende mai da settimane sotto gli 80, ma ribadendo i ricoveri in ospedale sono 13 i pazienti ricoverati in Isseni e invece sono 16 i pazienti ricoverati di Gela e gli altri distribuiti nei vari paesi della provincia. 892 i positivi a Caltanissetta in quarantena domiciliare, 1353 invece i positivi in quarantena domiciliare a Gela, sono in tutto 4.007 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia.